gas 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 e perché non gli date gas e tu gli hai dato gas dopo la cunetta ti si alza su in piedi subito devi darglielo tutto qua quando hai fatto la cunetta fai come un sasso e poi arrivi via su lì lui gli ha dato gas dopo dove lì lui appena gli ha dato gas lì gli ha preso si alza ale era giusta più veloce ancora perché devi passare fuori con la cunetta salta su su sta moto bravo rito torniamo giù dai ma sai quell'altra no? eh dove sei caduto col topo? eh io l'ho detto come tu sei caduto il primo il primo il primo il primo